Dobbiamo dare un segnale chiaro, in Italia non ci devono più essere zone franche, non ci devono più essere zone nelle quali lo Stato indietreggia, sparisce, fa finta che vada tutto bene, china la testa. A Caivano noi vogliamo dimostrare che le cose possono cambiare, che non è vero che è tutto già scritto e che l'unica opzione è arrendersi, piegarsi alla camorra perché tanto nessuno ti aiuterà se ti rifiuti di farlo. A Caivano noi abbiamo riportato lo Stato, l'istituzione, le forze dell'ordine per dire ai criminali di ogni sorta una cosa molto precisa, con noi al governo non vi conviene sfidare lo Stato perché risponderemo colpo su colpo. Non ci facciamo intimidire. Ma Caivano guardate abbiamo riportato anche la speranza delle cose normali, una delle cose che a me hanno colpito di più è la felicità di una mamma che può riportare, che può portare suo figlio a giocare al parco, una cosa che per molti di noi è la cosa più naturale del mondo.